Per noi questo DNA sono i tratti somatici di questa comunità, i volontariati, la persona ogni 5 fa volontariati, quasi un milione di venti, glielo dicevo prima, sui 5 milioni fa volontariati. Io direi che quotidianamente c'è qualcuno che si sostituisce alla mancanza delle istituzioni perché poi questa è la verità. Però voglio anche dire che questi tratti somatici vengono da una radice cristiana che abbiamo, la solidarietà, la compassione, però me lo lascio anche dire, anche l'autonomia e la solidarietà, quella che lì ha definito un valore costituzionale e che ha detto di un vero elemento di unità nazionale. E penso che questi sono i valori che hanno i nostri volontari. Avviare il problema è autonomamente risolto. Questo è il nostro DNA. È una mobilitazione che parte dal basso. E direi che anche questo filo conduttore che ci unisce ci fa sentire più comunità. Se dovessimo farne una sintesi, potremmo dire, non si dice spesso, fa più rumore una pianta che cade di una foresta che cresce. E' più volontariato la foresta che cresce. Grazie.